Buona giornata oggi 8 settembre l'attività di Maria grande festa grande festa soprattutto qui a Loreto è proprio la festa di Loreto la festa non solo del paese ma anche di questo di questo luogo è santo e in modo particolare oggi sarà tutto dedicato ai bambini all'affidamento a Maria dei bambini dei ragazzi del loro futuro della loro chiamata della loro vocazione del mondo che anche noi oggi saremo chiamati a costruire per loro e a consegnare a loro invito allora così come tanti ma tanti e migliaia di bambini sono già stati affidati ad affidare i ragazzi i bimbi che conosciamo pregare per qualcuno guardate è un'occasione grande non solo per se stessi ma anche per il destinatario della preghiera il Signore ti illumina e ti benedica buona giornata